Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta hanno reagito alle recenti dichiarazioni del nuotatore Thomas Secken, che durante un'intervista al Corriere della Sera ha affermato di non avere alcun legame personale con la campionessa. Ceccon ha dichiarato che, pur avendo ammirato Pellegrini come atleta, per lui non rappresenta nulla a livello personale, poiché i due non hanno mai interagito. Pellegrini, attualmente concorrente a Ballando con le stelle, ha risposto in maniera lapidaria definendo i commenti incommentabili. Più diretto è stato Giunta, ex allenatore della nuotatrice, che sui social ha sottolineato l'importanza del rispetto, affermando che, anche se Ceccon potesse vincere le Olimpiadi, senza rispetto non avrebbe valore per lui. Il rispetto è il valore fondamentale nello sport e nella vita. Se non lo hai, puoi anche vincere le Olimpiadi, ma per me vali zero. Nonostante Ceccon abbia sottolineato la mancanza di un legame personale, entrambi gli atleti si sono allenati a Verona presso lo stesso centro federale. Pellegrini, tuttavia, non ha mai mancato di elogiare Ceccon per le sue imprese sportive, come in occasione del suo record mondiale nei Cento d'Orso.